Dice Conte che sulla base di questo accordo sull'immigrazione abbiamo fatto di più in un giorno che Salvini in un anno, è vero? In un certo senso sì, perché Salvini non andava spesso, non andava quasi mai alle riunioni dei ministri degli interni europei e insultava i governi e l'Unione Europea. Non è il modo migliore per procedere. Adesso qualche primo passo è stato fatto. Conte naturalmente anche nel giugno dell'anno scorso, dopo il suo primo vertice europeo, aveva detto che il problema delle migrazioni era quasi risolto, ma adesso è un altro Conte, come sappiamo.